match it now a piove di sacco siamo qui insieme ad un personaggio misterioso molto legato alla realtà admo fiero della sua maglia admo donatore un personaggio molto legato al territorio avete indovinato di chi si tratta davide gianella sindaco di piove di sacco benvenuto davide io ho utilizzato questi termini fiero di appartenere al mondo admo certamente sono molto fiero vado anche molto fiero della maglia sono stato coinvolto in questa splendida realtà ho avuto la fortuna di donare e attraverso il sangue periferico è un qualcosa che ti cambia la vita ti arricchisce e soprattutto non hai la consapevolezza fino in fondo che stai salvando una vita con un gesto che non costa nulla quanto è importante sensibilizzare anche tutta quanta la comunità a queste importanti tematiche direi che è fondamentale le istituzioni hanno un ruolo fondamentale ma qui in saccisica la squadra dei sindaci è unita siamo più di uno tipizzato tutti coloro che potevano tipizzarsi lo hanno fatto e quindi la saccisica sta rispondendo molto bene ma c'è molta strada da fare c'è bisogno veramente dell'aiuto di tutti c'è bisogno dell'aiuto di tutti quanti perché now adesso potete fare la differenza e allora guarda fisso in telecamera e di match it now match it now